Match winner della gara Andrea Locchis che ha segnato il gol di vittoria all'inizio del secondo tempo. Andrea, un tuo giudizio sulla partita sostanzialmente equilibrata? Equilibrata però abbiamo messo anima e corpo e siamo riusciti a portare i tre punti a casa. Soprattutto per quali delle vostre qualità? Il carattere e non mollar mai, che è la caratteristica principale di questa squadra. Il tuo atteggiamento in campo, fascia destra, però molto offensivo? Sì, è un modulo, è l'idea del mister, l'idea di gioco, che secondo me dà buoni frutti, che però non per questo non comporta dei sacrifici da parte di tutti, dal primo attaccante davanti all'ultimo difensore dietro. Quindi le tue qualità maggiori quali sono secondo te? Di essere a servizio della squadra, tutto qua. Invece per quel che riguarda la squadra, cosa pensi di questo inizio di campionato della Coppa e cosa pensi di perseguire del campionato? Io penso che se la squadra continua col carattere e con la forza d'animo che è lo spirito dell'allenatore, penso che qualche buon risultato lo porteremo a casa. Comunque sia l'obiettivo principale è salvarsi il prima possibile per fare un buon campionato tranquillo. Invece per gli avversari di oggi come li hai visti? No, è una buona squadra, era una neopromossa, però comunque sia qualche difficoltà la creerà chiunque, perché è una squadra giovane che corre, che si dà da fare.